Allora, onorevole, oggi avete presentato questa importante iniziative a 4 milioni di euro destinate alle aziende, diciamo, soggette a misure di restrizione patrimoniale. Sì, è la prima volta che la Regione sceglie di occuparsi di un problema grave, che è quello che moltissime di queste aziende confiscate poi di fatto muoiono, quindi c'è una mortalità altissima, si dice, del 97-98% delle stesse aziende. Noi vogliamo dimostrare che si può aiutare questo sistema di imprese confiscate garantendo il loro credito a tasso agevolato, cioè a zero interessi, consentire alle imprese che si occupano di agricoltura sociale di poter avere anche quelle forme di aiuto per realizzare in terreni confiscati alla mafia ciò che dimostra che lo Stato può vincere creando agricoltura sociale, fattorie didattiche, aziende che vengono localizzate utilizzando anche le categorie svantaggiate. Insomma, mettere in campo una strategia in cui la Regione non si gira la faccia dall'altra parte perché è un compito dello Stato. Noi facciamo la nostra parte e chiediamo allo Stato di fare meglio ciò che finirà a fare. Il problema è sempre il solito. Bisogna costruire un sistema di prossimità, cioè più si è vicini ai problemi più si è in grado di comprendere i problemi. Noi oggi abbiamo in Sicilia un sistema che è, diciamo, bislacco. Una parte è gestita da un'agenzia, da un ufficio dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati che ha sede a Palermo e che si occupa di Palermo, Trapani e Agrigento. Un'altra parte, cioè tutta la restante Sicilia, viene gestita da un ufficio a Reggio Calabria. È evidente che intanto bisogna mettere a unicità il sistema delle procedure, delle modalità di gestione proprio per avere anche quel sistema di prossimità che è fondamentale per conoscere e trovare soluzioni ai problemi.